Nel video di oggi vedendo i nastri tolti dalla zona di Gioele e vedendo un po' la situazione perché da lontano si vede che anche i nastri che erano presenti proprio nel punto preciso del ritrovamento stanno volando via. Qualcuno ha parlato di smobilitazione e di un posto che ormai sembra lasciato stare anche perché chiaramente gli animali hanno il pieno controllo della zona che cambia ogni giorno presente la sua morfologia e si è parlato di abbandono. Quindi praticamente questo posso integrare che oggi passando con la macchina, per motivi miei in questo caso non c'entrava col discorso attinente a Viviana ho notato che lo smobilitamento, non direi smobilitamento quanto direi la mancanza probabilmente di un presidio e di un'attenzione perché trattandosi di un caso al momento irrisolto secondo me tutta la zona che era stata circoscritta dai soccorritori doveva tuttora essere tutelata perché potremmo avere in qualsiasi momento un colpo di scena che cambia le cose o che indirizza su un punto preciso su un'area precisa dove fare ulteriori sopralluoghi o verifiche. Quindi io oggi passando con la macchina mi sono accorto che invece questa aria sta venendo alterata rispetto a quello che era il suo disegno diciamo nel periodo estivo ma nemmeno direi solo estivo perché praticamente parliamo fino a qualche giorno fa. Ecco per l'esattezza a distanza ho visto un sacco di fumo e ho detto speriamo che non sia questo fumo proveniente dall'area dove si effettuavano le ricerche. Allora se voi vi ricordate più o meno ma sicuramente sì ormai c'è un rifornimento IP che si trova circa 300-400 metri prima del bivio che porta a Caronia Marina a destra. Poco prima lato messina di questo rifornimento si sale e si prende la strada che passa dal bosco. La strada che passa dal bosco ovviamente ce ne sono due, una delle due è quella del cancello, l'altra è quella che ho fatto nel primo giro nel bosco. Questa strada quindi costeggia quasi l'autostrada, passa anche all'altezza dell'area di sosta quella susseguente alla galleria Pizzoturda e praticamente costeggia anche due laghi. Questi due laghi furono assolutamente interessati dalle ricerche tanto che i sub due volte fecero immersioni. Si chiama se non sbaglio uno dei due buzza. Lo trovate credo nella puntata della vita in diretta del 6 quando se non sbaglio c'era per il secondo giorno Vittorio Entrocaso. Come vedete da queste immagini l'area suddetta sta letteralmente bruciata. Praticamente è quella strada che passa dai laghetti, praticamente è tra il bosco e il laghetto e l'autostrada. Poco dopo sfocia in quel famoso sottopasso dell'autostrada dove si vedono le mucche, dove si vedono sempre nei video le jeep dei soccorritori. Ecco guardate qua metto un po' in rallenti, proprio dietro il famoso rifornimento IP che era il campo base c'è un vastissimo incendio che sta bruciando. Chiaramente noi non è che possiamo dire che lì ci fosse qualcosa, però è vicino all'area delle ricerche e si concentrarono su quel punto e dietro il campo base, per cui che ne sappiamo? Secondo me avrebbe dovuto essere maggiormente salvaguardata e invece non resterà più nulla. E poi ovviamente mi sono... ho fatto delle riprese alla solita piramide, vedete qua? Questo è come si vede dall'autostrada, però qua siamo sul lato di Tusa. Qui vi faccio vedere rapidamente qual è il punto che sta bruciando. Siamo partiti dal rifornimento e vedete il punto dove c'è Buzza è qui. Ve lo misuro come al solito per ulteriore scrupolo e precisione. Si tratta di 1,8 km, 1,9 km circa. Intendo dire 1,8 km, 1,9 km dalla galleria dove viviamo all'incidente, perché in realtà dalla masseria dove poi va a lasciare Gioele siamo a 1,6 km circa. E niente, per me quel punto era magari da tenere in migliore importanza perché appunto c'è la strada che dal rifornimento sale, costeggia l'autostrada e si mette nei punti fondamentali, cioè quello del ritrovamento di Gioele e poi salendo ancora quello di Viviana. È l'unica alternativa alla strada del Cancello. Per cui, per esempio, se qualcuno si fosse trovato a venire lato Palermo, lato Santo Stefano di Camastra, avrebbe potuto imboccare quella strada. Quello sarebbe stato il primo punto in cui era davvero isolato e magari quindi in quel punto preciso poteva essere accaduto qualcosa. Poi costeggiando quella strada molto isolata sarebbe arrivata al punto, insomma in prossimità, di dove viene ritrovato il bambino e in seguito Viviana. Ripeto, ci sono solo due strade che vanno lì facilmente, quella del Cancello che si apre dal Stato Re 113 e quest'altra che sarà un po' più lunga del mio primo video del Bosco, che praticamente parte all'altezza del rifornimento. Per cui, essendo un'ipotesi di tragitto, avrebbe secondo me dovuto essere tutelata.